Ciao Marcello, ciao Amici Top Planet, ciao Delio, ciao gruppo Whatsapp. Siamo ritornati. Stiamo ritornando, stiamo ritornando. Zitti zitti stiamo ritornando. Stiamo rispondendo agli anti-juventini che settembre, ottobre, novembre e dicembre ci hanno presi in giro. Che la Juve non c'è più, che la Juve è scomparsa, la Juve non farà più la stessa stagione dello scorso anno, ma stiamo calmi, cari anti-juventini. La Juve ha risposto con un bel 3-0 sul Bologna. Abbiamo risposto ai prescritti, l'abbiamo sorpassati. Siamo a meno uno dai partenopei, quindi la Juve non muorerà mai, non muorerà mai. Siamo una squadra veramente che non molla mai. E' questo che io voglio vedere, questo atteggiamento, aggressività, la fame, che oggi ho visto veramente una grandissima prestazione. 11 leoni che correvano come dei matti. Mi ha sorpreso molto Mato Idì, innanzitutto primo gol in campionato, grandissimo gol. Mi è piaciuto molto Pjanic, grande gol. Marione, anche lui ha fatto una grande prestazione. E soprattutto Benatia. Sono sei partite da titolare, se non vado errato, che non subiamo gol. Questo è da sottolineare. E poi, che io, lo ripeto come giocatore, non mi piace tanto, però De Sciglio mi sta sorprendendo. Mi sta sorprendendo, sta giocando con la massima personalità. E veramente, mi sta veramente sorprendendo. Speriamo che continui sempre così. Comunque, caro Marcello, noi siamo sempre lì, zitti, pedaliamo, lavoriamo. Ho visto una Juve determinante, una Juve che per 90 minuti correva. E quindi sono veramente... Speriamo che continui così, speriamo veramente. Ora, mercoledì, abbiamo Coppa Italia. Poi, una parentesi sulla dei sorteggi. È andato bene, ma non benissimo. Anche se il Tottenham è una grande e bella squadra, eh. Non va sottovalutato. Ora ti saluto, Marcello. Al prossimo video, Juventus-Gelo di Coppa Italia. Sempre e comunque, fino alla fine, forza Juventus. Il pianeta è bianco-nero. Un abbraccio, Marcello. Un abbraccio, Marcello.